Ciao, buongiorno. Oggi ci troviamo al centro di Roma, come sempre. Questa è la chiesa dietro di me, di San Giovanni, a Porta Latina. Si chiama così naturalmente perché ci troviamo vicino a Porta Latina. Non siamo molto distanti dall'Appia. Vedete, questa è una chiesa meravigliosa. È stata costruita nel V secolo e è stata ristrutturata più volte naturalmente, nel Settecento, nel 1100, è stata ricostruita la Torre Campanaria, bellissima, medievale. Ci sono queste colonne, sono colonne di spoglio. Questa parte esterna è abbastanza antica. All'interno la chiesa ha degli affreschi bellissimi medievali che sono esempi molto rari di affreschi medievali che abbiamo a Roma. Qui vicino, non tanto distante da qui, abbiamo anche la chiesa dei Santi Quattro Coronati. Anche lì abbiamo degli affreschi medievali. Vi consiglio di venire a fare una passeggiata. Non è proprio distante dal centro, dal Circo Massimo. Saranno 10 minuti, 15 minuti a piedi. Oppure con la macchina, naturalmente. Si può benissimo arrivarci a piedi. Si apre molto presto, alle 7 e mezza, 8 e vengono fatti matrimoni, comunioni e battesimi. Ed è una chiesa un po' nascosta, vedete, silenziosa. Noi stiamo proprio a poca distanza dal centro, siamo poco distanti dal Colosseo. Però, ecco, come potete vedere non c'è molta confusione. e San Giovanni a Porta Latina. Ciao! Ah, io sono Alexandra. Se vi iscrivete sul mio canale YouTube, potete seguire le mie dirette. Iscrivetevi, ciao!